La Regione Toscana riapre dal 14 al 28 ottobre 2024 il bando per i nidi gratis. Potranno presentare domanda alle famiglie con ISEE fino a 35.000 euro che non hanno ancora compilato il modulo o che hanno commesso degli errori nella presentazione dei documenti. Ad annunciarlo il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni e l'Assessore all'Educazione e Istruzione Alessandra Nardini alla vigilia dell'avvio del nuovo anno scolastico. Le famiglie potranno presentare domanda dal 14 al 28 ottobre prossimi. La platea delle beneficiari e dei beneficiari di questo contributo che permette di azzerare le rette dei nidi e che quest'anno è superiore rispetto a quella raggiunta lo scorso anno con il primo bando di nidi gratis potrà dunque ampliarsi ulteriormente. In questo modo aggiungono vogliamo diffondere ancora di più una misura della grande valenza educativa che si basa su un principio. Il nido deve essere un diritto garantito a tutte le bambine e a tutti i bambini indipendentemente dalle condizioni socio-economiche della famiglia di provenienza.